Si svolgerà dall'8 al 19 novembre la quarta edizione del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli. Anche quest'anno il Festival sarà strutturato in quattro sezioni, comuni e quartieri, scuole e università, eventi speciali internazionali e concorso cinematografico. I dati quest'anno sono strutturali perché abbiamo diviso il Festival in due settimane e quindi abbiamo pensato di dedicare la prima ai comuni e ai quartieri, quindi agli spettacoli che faremo e agli argomenti che tratteremo che riguardano le realtà delle periferie di Napoli e dei comuni della fascia metropolitana. La seconda settimana, a partire dal 14 novembre, sarà invece dedicata agli eventi speciali internazionali, come è nostra consuetudine parleremo di diritti universali con protagonisti che vengono anche da altri paesi del mondo. L'assessorato all'istruzione del Comune di Napoli invita le scuole medie di primo e secondo grado a partecipare al concorso La Scuola per l'Europa Diritti e Cinema, che trova spazio all'interno del Festival ispirandosi al tema I diritti dei minori. Il regolamento completo e la richiesta di partecipazione riservata alle singole classi sono reperibili nella sezione scuola del sito web www.cinemadirittinapoli.it. Noi siamo sempre stati convinti, l'abbiamo usata anche come parola d'ordine, anche se le parole d'ordine non ci piacciono che la cultura cominci a scuola, tutti i tipi di cultura, la cultura cinematografica in particolare, che tra l'altro trova a scuola un terreno fertilissimo perché l'educazione all'immagine è forse un'educazione che indipendentemente dall'agenzia formativa a scuola i giovani ragazzi sentono fortemente, è il loro linguaggio preferito e quindi è chiaro che per mediare i valori che la scuola poi media, i valori di cittadinanza, il cinema è uno strumento potentissimo da tutti i punti di vista, in particolar modo poi l'associazione di cui stiamo parlando cura delle rassegne sui diritti umani che hanno una importanza, una valenza non solo quindi per la forma, cioè per il contenitore che è il contenitore cinema ma soprattutto per il contenuto. Come per le passate edizioni il festival chiamerà raccolta tutte le associazioni napoletane e campade. Importante che per la città trattare un tema che è quello dei diritti ma soprattutto incontrare gli autori, fare in modo che ci siano dibattiti sui temi trattati dei più svariati, ogni quartiere assume in sé il compito di parlare di un argomento e ci sono tante bellissime persone, esperienze che hanno un tempo di protagonismo in questo percorso che è assolutamente significativo anche perché la testimonianza di quello che succede in città al di là dell'evento. Per tutte le informazioni sul festival e sul concorso è possibile collegarsi al sito